Ok ragazzi, vediamo oggi, brevemente, la regola per effettuare il calcolo della derivata di una funzione frazionaria. Supponiamo di avere una funzione che è data dal rapporto di due funzioni, quindi f di x fratto g di x. La regola che dovrete seguire, e che si dimostrerà in un'altra lezione, è la seguente. La derivata è uguale al seguente rapporto. Vi dico subito che non è uguale, come potreste pensare, alla derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Questo non va bene. Vediamo qual è invece la regola. Quindi, si effettua la derivata della funzione che si trova al numeratore, quindi f primo di x. Per il denominatore non derivato, meno il numeratore, stavolta non derivato, per la derivata del denominatore. Tutto fratto, mentre qui si scrive il denominatore, la funzione che c'è al denominatore, è tutta elevata al quadrato. Facciamo un brevissimo esempio. Supponiamo di avere y uguale x al quadrato fratto e elevato a x. Quindi sopravviamo la funzione potenza sotto la funzione esponenziale. Allora, la derivata di questo rapporto è uguale. Linea di frazione. Vi consiglio di sistemare dapprima il denominatore, perché presi dai calcoli ve ne potreste dimenticare. Quindi scriverò la funzione che si trova al denominatore, tutta elevata alla seconda. Poi che cosa devo fare? La derivata del numeratore, quindi la derivata della funzione che sta al numeratore, è 2x, che moltiplica il denominatore non derivato, e quindi e elevato a x, meno la funzione che sta al numeratore, adesso intatta, quindi identica, x al quadrato, per la derivata del denominatore. La funzione che si trova al denominatore è e elevato a x, e voi sapete che la sua derivata è proprio se stessa, cioè e elevato a x. Quindi scrivo dire come e elevato a x. Quindi potremmo andare a rifinire questo risultato, semplicemente ricordando, per esempio, qui sopra posso fare la messa in evidenza di e elevato a x, che moltiplica 2x meno x alla seconda, mentre sotto è e elevato a x elevato alla seconda, lasciatelo così perché vedete che si può effettuare questa semplificazione. Quindi 2x meno x al quadrato fratto e elevato a x. Andiamo a fare un altro esercizio, sempre relativo alla derivata del rapporto di due funzioni, con una complicazione in più. Supponiamo di avere, per esempio, al numeratore x al quadrato meno 3x e al denominatore 2x. Facciamo la derivata di questa funzione. Come vedete, stavolta, al numeratore abbiamo una funzione che non è una funzione elementare come prima, ma è la differenza di due funzioni. E allora, la regola è sempre questa. È la derivata di un rapporto, quindi scriveremo il denominatore elevato alla seconda. Che cosa dovrò fare? Dovrò fare, secondo la regola che vi ho dato, la derivata del numeratore. Quindi io non la vado a fare subito per il momento, cioè scriverò derivata di x al quadrato meno 3x. Poi dovrò moltiplicare il denominatore non derivato, quindi 2x, meno il numeratore, la funzione che si trova al numeratore così com'è, quindi x al quadrato meno 3x, che moltiplica la derivata del denominatore, quindi la derivata di 2x. Non abbiamo fatto all'istante le derivate, perché, anche se sono facili, perché vi renderete conto, negli esercizi che seguiranno, che quando le funzioni che avrete davanti sono di una certa complessità, vi conviene andare a fare la derivata da parte. Quindi, in questo caso, y primo uguale, linea di frazione, al denominatore 2x elevato al quadrato, posso scrivere 4x al quadrato. Adesso passo al numeratore. Quanto fa la derivata di x al quadrato meno 3x? Beh, voi sapete, con le regole che vi ho dato, è 2x meno 3. Mi raccomando a usare le parentesi, perché, se non mettete le parentesi, poi sarebbe soltanto il 3 a moltiplicare 2x, mentre è tutta questa derivata, 2x meno 3, che moltiplica 2x. meno, andiamo avanti, x al quadrato meno 3x, che moltiplica la derivata di 2x, che sarebbe, appunto, 2. Quindi il risultato che ne viene fuori è y primo uguale, sotto è 4x alla seconda, quindi viene 2x per 2x, 4x al quadrato, meno 6x, poi meno 2x alla seconda, più 6x. Mi raccomando, i segni. Quindi, vediamo di sommare i termini simili, mi rendo conto che è meno 6x più 6x, sono opposti, mi viene 4x al quadrato, meno 2x al quadrato, e viene 2x al quadrato, fratto 4x al quadrato. Quindi x al quadrato e x al quadrato vanno via, 2x al quadrato e 2x al quadrato. E rimane un mezzo. Questo è il risultato. Un'ultima cosa, prima di terminare, poi vi darò gli esercizi in separata sede, è che se voi applicate questa regola ad una funzione elementare che io vi ho dato, cioè la funzione reciproca, 1 fratto x. Noi sappiamo che io vi ho detto, ve l'ho dimostrato in un altro modo, che la sua derivata è meno 1 fratto x al quadrato. Beh, se questa l'andate a vedere come un rapporto, noi andiamo ad applicare la stessa identica regola, e cioè denominatore al quadrato. Poi devo fare la derivata del numeratore, che è la derivata della costante, 0, che moltiplica il denominatore non derivato, meno il numeratore, così com'è, quindi praticamente 1, per la derivata del denominatore. La derivata di x è appunto 1. 0 per x viene 0, meno 1 per 1 è 1, tutto fratto x al quadrato. E quindi è venuto come risultato meno 1 fratto x al quadrato, che era quello che già conoscevamo. Quindi, questa prima introduzione alla derivata delle funzioni fratte è terminata, seguirà l'elenco degli esercizi sulla piattaforma. Vi auguro buon lavoro. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.